Buongiorno! Siamo ancora in compagnia dei nostri angeli, la risposta degli angeli e la risposta di oggi è Medita per trovare la risposta, medita a prescindere, medita tutti i giorni, medita più volte al giorno no vabbè, però almeno un quarto d'ora, venti minuti al giorno, io lo consiglio, lo sapete, sono una grandissima fan della meditazione ne sto facendo anche, sto cercando di farne anche una professione duratura meditate, meditate perché nella meditazione vi concentrate nel momento presente, vi trovate finalmente nel momento presente che è l'unico momento che può darvi le risposte che cercate, è l'unico momento in cui trovate quello di cui avete bisogno ok? Quindi quando siete un po' in crisetta, meditate io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima